Luca arriva, categoria Super Academy, kart numero 4, pronto per scendere in pista, preferendo pista bagnata o asciutta? Preferivo pista asciutta, però anche con la pista bagnata me la cavo, dai! Una tenda che si fa riconoscere in mezzo al paddock con questo arancione dell'Arrow Team Motorsport? Sì, sì, ci riconoscono subito, anche dal camion. Andiamo a vedere, per esempio, c'è chi viene dalla Svizzera, come Racksteiner e fa parte del vostro team, poi c'è il tuo kart e poi ci sono i giovani dell'academy. Sì, ci sono tanti piloti e c'è anche un altro pilota svizzero con noi. Binaghi? Binaghi, giusto, sì. Ecco, come si amalgamano tutte le categorie insieme? Meccanici che lavorano tra una categoria e l'altra, ogni team, ogni kart ha il suo meccanico oppure? Sì, sì, ogni pilota ha il suo meccanico e se c'è qualcuno che ha bisogno interveniamo subito. Ma i piloti più giovani chiedono a voi un po' più esperti? Sì, sì, i piloti più giovani chiedono dei consigli. Un bilancio di questa Champion Kart Series alla seconda prova? Speriamo in bene, speriamo di arrivare davanti con tutte le categorie. Una categoria comunque che consiglieresti? Che consigli? L'academy, consiglio l'academy a tutti i ragazzi giovani.